buon pomeriggio amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale sono appena rientrato a casa dallo stadio brianteo dove il monza ha sconfitto con un netto 4 a 0 il vicenza del brocco cristian brocchi godo che partita mamma mia mamma mia con il brocco cristian brocchi imbellito che poi a fine partita va a salutare lì la la tribuna e noi a casa a casa a casa godo godo partita iniziata bene per il monza allora sul piano del gioco c'è da migliorare ci sono da migliorare sempre le solite cose inutile che sto qui a ribadire che ci sono da migliorare le solite cose come magari pedro pereira alcuni meccanismi è soltanto che a un certo punto palle in mezzo da calcio d'angolo pizzata col col piede di mariolone sampirisi e 1 a 0 per il monza con il gol del capitano mariolone sampirisi poi lì è forse cambiata la partita perché ok il livello del vicenza che non è pum 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 così è scoppio tanto livello comunque basso non è una squadra comunque lotta per la retrocessione è allenata da cristian brocchi e vabbè a un certo punto lanciato gitkier verso il portiere del vicenza lo stende al limite dell'area l'ex difensore dell'udinese sebastian de maio l'albitro clamorosamente da un cartellino giallo a de maio con i giocatori del monza imbezziti attorno all'albitro chiedendo il rosso l'albitro viene richiamato alla visione dei monitor non finre più al var e da il cartellino rosso a de maio vicenza in dieci uomini e nonostante questo il monza non è riuscito a segnare a fine primo tempo il gol del 2 a 0 arrivavamo sempre così o un dribbling di troppo o un passaggio di troppo non andavano al tiro quando bisognava andare al tiro e servivano in compasso comunque si è concluso un a 0 primo tempo ma nel secondo tempo ancora sempre non si riusciva a segnare non si riusciva a segnare quando quando ormai vabbè accontentiamoci dell'1 a 0 si urlava perché non si riusciva a chiudere la partita ovviamente di gregorio mai impegnato mai impegnato perché ripeto in vicenza non è tutto questo e quindi però non ok che vicenza magari non era pericoloso ha avuto due tre occasioni tutta la partita ma non è riuscito il monza non siamo riusciti a segnare non siamo riusciti perché ok che non abbiamo subito grandi occasioni dal vicenza e quindi non era in pericolo però non si riusciva a fare quel 2 a 0 che ci avrebbe resi più tranquilli quando poi in una palla in mezzo l'allontana il portiere del vicenza zampata di andrea barberis non ci volevo credere ma non si è accorto nessuno del gol poi non si è accorto nessuno non si è accorto nessuno il risultato solo quei due che c'erano nella nord dalla parte del monza non si è accorto nessuno ma ha segnato andrea barberis andrea barberis incredibile secondo due con la maglia del monza dopo la punizione dello scorso campionato contro il lecce in casa e niente poi il monza ha dilagato ha dilagato signori come giusto che sia sembrava gol del vichingo christen gilker e invece è autogol di ma e sì ciao di pasini è autogol di pasini sì sì mattia presini è quello quello che con le moto ok sì vabbè sorvoliamo e autogol di pasini praticamente sembrava gilker però praticamente cosa è successo che la palla in mezzo è stata deviata di testa se non sbaglio comunque da pasini dentro la sua porta il portiere non è riuscito a pararla e quindi non si è accorto nemmeno lo speaker del gol perché non ha non ha proprio neanche detto gol di gilker ha segnato per noi con la maglia numero 9 christian che poi non ha segnato gilker gilker però non si è accorto di niente quando poi arriva a chiudere il capolavoro a chiudere la sfida del brianteo ci pensa con il primo gol con la maglia bianco rossa del monza il pescatore sanpei leonardo mancuso finalmente si sblocca il pescatore sanpei leon mancuso primo gol con la maglia del monza e tutti a casa e il brocco a casa e ora subito testa alla sfida di martedì sera alle 20 e 30 allo stadio mocca gatta di alessandria dove bisogna guadagnare altri tre punti e poi sfida di sabato prossimo sempre allo stadio brianteo io sarò lì presente nella tribuna per assistere a mozza crotone non fermiamoci più possiamo raggiungere altre due vittorie contro alessandria e crotone la classifica è sempre una volta c'è primo brescia una volta la cremonese poi erbe lecce però siamo lì siamo lì a tre punti dalle prime siamo lì siamo lì quindi bisogna bisogna comunque crederci nonostante tutto io vi invito a lasciare un mi piace sotto io mi invito a lasciare un mi piace se vi va sotto questo video commentate qui sotto se vi va con le vostre impressioni della vittoria casalinga al brianteo del monza per 4 a 0 sul vicenza iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video è sempre forza monza dai ragazzi ciao 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 ciao